Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Questo posto dimenticato da Dio. Certo! Siamo un po' in mezzo al nulla. Dire Dio è come parla di Mr. Kedla. Ah madonna Kedla quanto ti lecca il culo quest'uomo. Mi dicevi quanto ti lecca il culo? No! Certo che a Roma. A Monza. Magari a fare un guest da Amy Skid. Lui va in vari studi a tatuare. Sì ma vuole a Roma. Storia di Anarchy dove sei ratato coq da Simo. Sì 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 ha annunciato proprio uno scamperenne. Comunque ti ordino la pizza. Grazie. Allora adesso vediamo quanto costa. Così ci accordiamo. Quest'altra gag. Come si dice? Strega colore, comanda colore, beige. Marroncino Gilbert. Beige? Beige! 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 Beige quello che vuoi! È beige? No. No, non si mette il sacchetto in destra. Signorina per cortesia eh. Un po' di salsissi a me. Sembra quello del mech. Ciccio. No. Ma ci sto solo io, non ho capito. Sono spariti. È crashato. Aspetta! Beige! Eh, era ciccio. Beige! Mi ripesca, mi ripesca! Non ho capito. Vabbè, è giusto, ci sta. Il concetto, il concetto regge. È finita con picca? Cosa? Ah sì, è vero, vero, vero. Non te l'ho detto. Sì, è vero che è picca. Tu invece, Cocco, sei sempre single? Dobbiamo rimarcare così questa cosa? Mamma mia, Cocco. Però se hai problemi col tuo io, risolviamoli. Io ti sto facendo delle domande. Mi chiedono di stipulare una chiacchiera con me. Invece che lasciarmi qua sorridendo. Si sente Simo? Simo, ti si sente? Simo? Simo, si sente la tua cacca? Simo? Simo? No! Si sente la cagata? Simo, si sente la cagata? Simo? Togli il microfono! Ma come mi si sente? Si sente la cagata. Ma non è vero? Sì, ti sto parlando. Non posso sapere che tu gli avresti chiesto il favore di trovarti un tatuatore. Si sente la cagata? Ah, Mr. Kidz ha 100 abbonamenti! Circa 46 biglietti del GameSuite! All'incirca! Grazie mille, Kezzonone, per i 100 abbonamenti! salvati salvati mister siamo a 200 per oggi oh come oggi? vabbè neanche diventa coca devi rispondere a una domanda e mimi? e mimi? neanche lei l'ha trovato risponde coca comunque dai rispetto alla sorella dimmi mamma mia si gioia di esplodere no zio c'ho una mosca qua in camera è una mosca in camera che si fissa a promuovere l'obiettivo che stronza sta mosca io si in pubblico spiegacelo te l'ho fatto in una spiaggia vai gibert vai gibert dentro al mare di giorno vabbè grazie al cazzo in spiaggia in mare durante il giorno vabbè ma si tipo sul bagnasciuga no 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 in acqua in acqua in acqua come cazzo hai fatto? vabbè c'è monete oh oh è qui ha trovato il pallone d'oro mentre palleggia l'ha trovato l'ha trovato ha trovato il pallone d'oro mentre palleggia bro eccolo e ha fatto l'uomo prima dei coc mi sa che hai perso e il servo qua su non ho nel scenario non riesci a fare qualcun altro quel cos'altro come cazzo ha fatto? non so neanche come ho trovato il colore oro si apri la bocca ah ma è lui apri la bocca no no lui no grandissimo ciao grande caro è così ok 3 2 1 vai ma è originale? si originale da cosa? la camera è veramente della madonna quella che c'è di là cosa fa sto coglione? ciao niente pieno di ragazze su tiktok che stanno condividendo la live guarda per dire tipo all'amica guarda sto figo guarda assurdo te lo giuro guarda guarda qua guarda sei simpatico cioè anche la chat ho visto che comunque diceva è simpatica che brava guarda leggiamo un attimo la chat insomma non posso dire lei è molto simpatica chat scrivete dei pareri su Clea per favore chiediamo alla chat non scriveri sta scema no ragazzi non pareri di questo tipo ricordati ok siete scazzati entrambi ora basta è una merda tutto si comunque esca pure cliccando x non so se ci arriva con il tastino però no non ci arrivo guarda sto provando devo buttarla fuori io non mi è mai successo in tre anni aspetta prova a dire una cosa prova a dire una cosa una cosa non so una frase che dici di solito lo so lo so mamma mia però insieme aspetta aspetta se sei uomo questa è neutra questa è neutra io l'ho sentito insieme chiamarsi se sei uomo dice però vi farei a Matteo tanto l'ultimo va bene vai 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 Matteo chi è fabbifibra aspetta ripetilo giusto ho detto giusto coglioni io te l'avevo detto in che senso l'ho spaccato no 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 Gilbert non l'ho spaccato la mia nona no 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 Gilbert non l'ho spaccata non l'ho spaccata no 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 Gilbert no l'ho paccata è un modo di dire in che senso nel senso che nel senso che vabbè stava con Beba quindi lo riconosci perché stava con Beba da quando non perché ok ok allora se è una gag allora mamma mia mi giuro mi sembra un cacchino sto capendo un cazzo nessuno sa più di chi fidarsi si allora senti fai questo ciao ciao ragazzi grazie mille di essere stati oggi in live ho portato Maurizio Merluzzo perché era importante molto per me che lui fosse qui oggi io oggi mi sento anzi sapete cosa vi dico una cosa che non ho ancora detto ma che ho sempre voluto dire durante questa live e cioè io ecco l'ho detto che bastardo io ho 20 parole ho 20 parole di che anno sei perdonami 2007 wow 2007 quando ero piccolo erano piccoli vabbè effettivamente è vero è normale comunque è il momento di far entrare un ospite principale perché non viene da tantissimo su questo canale io non vedo l'ora di accoglierlo su questo canale e lo vedo già che si ah lo vedo già con una sigaretta in bocca che ha appena tolto ora sta fumando vabbè ora ha una una mazza vabbè tantissime cose benvenuto a G- che